Perché c'ho la telecamera così? Aspettate Ecco qua Ok Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo giorno Io sono Andrew Game e oggi siamo in gomma in edy Però non si può connettere purtroppo Ragazzi, vi state immaginando Ma com'è che ce l'ho Minecraft in questo momento? Beh, la risposta si parla di subito Queste shaders Lasciate se dovrei dire Ragazzi, mentre io non ho fatto il video Ho avuto tempo di fare queste bellissime pixel art Dove qua c'è la faccia dell'enderman La pokeball Qua c'è poi Un templio Qua c'è il portale del nether E qua il creeper jay perché ha le cuffie E adesso la sto facendo da una casa No Stavo costruendo la casa Che Avevo intenzione di fare una casa Anche se è piccola C'è una piccola immaginetta Qua nel computer la guardo piano piano Che è bellissima Anche se è piccola però è bello Carino Qua c'è una piccola immaginetta Qua c'è una piccola immaginetta Adesso Questo qua Qua sia No Ok Non so se che cosa Che cosa Allora Devo fare così Ok Prendiamo pure il vetro Perché avrò bisogno anche delle finestre Ovviamente Mettiamo le due Perché mi piace mettere al massimo due finestre uguali Ed è esatto in un blocco Non è che potevo scrivere il mio nome qua Che c'è No no Su quello là non lo so neanche io come si fa purtroppo Cioè se ragazzi stavo parlando con lui Che voleva creare un server tutto suo Però non lo può fare purtroppo Pure io ci vorrei provare Però non mi fa entrare in mortacci d'oro Ok Come questo qui Questa cosa del legno non c'è nell'immaginetta però vabbè Ok Adesso Aspettate Faccio così No Ho bisogno di questo Ho bisogno di questo Poi Questo qui E questo qui No Aspettate Ah Ok Ok Tutututututu Mettiamo la porta adesso Ok 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 è ancora ok Tutto ok It's ok It's ok Poi Poi Quasi quasi vorrei scaricare la mod Non so come si scarica però La mod della lavatrice Forniture mod Ma non la posso scaricare Non lo so perché Perché non è combattibile in questa versione 0.15 Sono caduto 0.15 1.1.6 Non è combattibile perché c'è scritto solo 0.14 Fortunati quella della 0.14 Mortacci l'oro E purtroppo la vorrei scaricare ma mortacci l'oro Li ucciderei Ok Vabbè ragazzi E' proprio No Sì Ma sapete che è muto Che è muto Ok Ora Ritendo Che state questo qua Così Qua ci puoi mettere la luce E' facile Dentro del naso E' la versione della regia Che non fa Però che chi mi fa Vabbè vediamo Beh Pure io con il mio piccolo Nella mappa Hanno scaricato la mappa Dai Dai Ok Mettiamo le gocce qua Che è morta Sembra lava Guarda come sono fatte tutti Sembrano fatte di lava Direttamente Fatti di lava Stiamo finendo sta costruzione Però aspetta Ho sbagliato Brava eh No 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 Devi suonare più forte No 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 ma ci diamo troppo è un po' bella è un po' bella dove è scritto su step? si è scritto step aspetta ragazzi scusate io ti metto un immito in pausa però mi dice un immito cosa è quello? avevo scendiato il nome step per step mi sembrava che c'era step allora cazzo mi cango per l'uomo ma non le metto mai perché me le metto mai non le metto mai ah no da donne ma è un server normale cosa devi fare tu come ti lei armate la cacca e dici dove il bagno e lavare e ci fai mamma mia che violenta ma questa è una cacca ma questa è una cacca fai bene a obbedirli perché quello ti levano dal server ma non ho più a te chi te l'ha detto perché poi se si leva uno se ne vai male se ne vai si ma ti banno si ma ti banno chiudi il server non vuole andare più nessuno oltre bella patata oltre bella patata ecco qua qua ci vedo un'altra qua ci vedo un'altra ok parlo qua ok 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 ecco qua ecco qua ecco 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 dai qua sta vediamo la grafica da pensano come fa ma ragazzi vediamo il tetto sta venendo buono ok mi rimanga sull'ultimo colpo e poi arreghiamo queste cose prima di fare l'ultimo ultimo condorso non un po' un po' vedete un po' com'è venuta un po' no anche se è piccola però non è ma che è una casa ragazzi mi sono scussata di fare senza casa mi sono scussata non è che mangiare non è che non è che non è che E poi la notte c'è sempre pieno di morti, c'è lavato due morti dementi, morti dementi, dementi. Ok, arriviamo tutta la casa, pure ci farei tipo un botto all'inverno, un nostalino davanti alla porta, dalle due 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 due. E' riuscita. adesso lo metto qui da unico va bene da unico fuori una tornata 3 tornate poi il letto qua 2 letti ok 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 Se vi è piaciuto chi è Vabbè ragazzi Se vi è piaciuto lasciate un commento Mi piace E' un commento che è per Affio Che sta facendo il pazzino Buongiorno Se vi è piaciuto lasciate un commento mi piace Se non l'avete condiviso condividetelo Iscrivetevi Ci vediamo nel prossimo video Un saluto Un bacio a vostro in the game Ciao